Montesilvano inizia a raccogliere i primi frutti della raccolta differenziata porta a porta. Il bilancio del 2020 stilato dall'assessore all'igiene pubblica Paolo Cilli racconta di una diminuzione sensibile dei rifiuti tal quali circa 1.500 tonnellate annue in meno comparando i dati del 2017 con quelli conseguiti nel 2019 e nel 2020. Dal punto di vista invece della quantità dei rifiuti differenziati si registra un incremento di circa 2.000 tonnellate. Percentualmente quindi se nel 2017 la differenziata Montesilvano si attestava al 25,4%, un dato molto al di sotto delle performance di altri comuni abruzzesi, nel 2020 sale al 34%, spinta proprio dalle zone della città dove si è avviato il servizio di raccolta porta a porta. Infatti nei quartieri di Montesilvano-Colle si va oltre il 71%, nell'area di Via Vestina oltre il 73%, poco meno nella zona del PP1 e Via Livenza e si scende al 61% solo a Santa Filomena. Attualmente le utenze coinvolte nella raccolta porta a porta sono relativamente poche rispetto agli abitanti, circa 7.400 sui 55.000 residenti totali, anche se nel mese di novembre è stata estesa la raccolta porta a porta anche a Villa Carmine con ulteriori 320 residenti. L'amministrazione comunale ha come obiettivo del nuovo anno la costruzione di un ulteriore centro di raccolta di dimensioni doppie rispetto a quello esistente in corso di realizzazione nell'area di Montesilvano-Colle e di un centro del riuso individuato nell'area di proprietà comunale Sita in Via Nilo dove potranno essere conferiti tutti quegli oggetti che non si usano più ma che potrebbero trovare nuovi utilizzi da parte di altre persone, evitando così di finire in discarica.